Tenendo fede al proprio nome, Credita Agricol promette di riportare i propri conti annuali in verde. Incoraggiata da un secondo trimestre migliore delle attese, con utili netti saliti a 696 milioni di euro, la banca francese conferma che presto le perdite record viste nel 2012 dopo l'uscita dal mercato greco saranno solo un ricordo. A far brillare i numeri sono state in particolare le attività della divisione finanziamenti e investimenti, che hanno registrato un balzo di oltre il 38% nei risultati. Buone notizie anche dal punto di vista dei requisiti di solidità. Il gruppo annuncia di aver già raggiunto il 3,5% nel rapporto tra patrimonio netto e totale delle passività.